Qui! Oh Luca, sei sballato! Allora, tu sei il tuo fratello. Guardate, senti. Allora, aspetta! Guardate la batteria! Oh! Scusate, allora, percussione basso insieme. Senta! Quindi tu guardate il giro con le cunucuma, guardate lì, che è come il petere, voglio dire. Ah, va qua quello che! Espresso è la carattere il giro! E' la cella staggata di giro! Cosa è un peterepo? Oh, non? Non si, non si... Non si, che ci vuole attorno a mano! Non si, non si, non si. Non si, non si. Non si, non si... Non si, non si... Non si, non si, non si. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti